Ora c'è il punto di Alberto Mingardi, istituto Bruno Leone. La Ferrero di Alba, insieme all'americana Hershey, potrebbe lanciare un'offerta per acquistare e smembrare l'inglese Cadbury, che è la seconda impresa di dolciumi al mondo. Cadbury è da tempo nel mirino di potenziali acquirenti che sono convinti di poterla valorizzare meglio degli azionisti attuali. Si tratta di un'operazione importante per Ferrero che varrebbe 5 miliardi. Quella di Michele Ferrero è un'impresa familiare non quotata. È un'azienda che è cresciuta lontano dalla politica, confrontandosi con i mercati e convincendo i consumatori con invenzioni geniali, dalla Nutella all'ovetto Kinder. E ora parte alla volta del grande gioco delle acquisizioni e delle scalate. I cinici credono che le imprese italiane possano farcela, possano avere successo solo quando hanno dei santi in paradiso. I conservatori credono che le imprese italiane possano prosperare solo se restano nel loro piccolo mondo antico. La Nutella che va alla conquista del mondo smentisce gli uni e gli altri.